Non al tempo di vantarsi della vittoria appena ottenuta, il Ragusa scende in campo per la Coppa. Le squadre si sfidano per gli ottavi, gli accoppiamenti propongono la sfida al new team. Ritorna dunque il derby in versione infrasettimanale, ad appena qualche settimana di distanza dal pari a reti immacolate conseguito in campionato. Il Ragusa si presenta alla sfida di Coppa imbattuto, deciso ad andare avanti nelle qualificazioni perché la società quest'anno punta in alto, guardando alla vittoria per passare in eccellenza. Il new team invece, reduce da una pesante sconfitta in campionato, e mister Fabrizio Vacca dovrà anche fare a meno di alcuni uomini della formazione titolare. Ma anche il Ragusa non sarà in solito assetto, dato che il tecnico utro deve fare i conti con una lunga lista di infortunati, tra cui Iozzia che è uscito malconcio da uno scontro nel corso della gara contro gli agrigentini. Anche Citronelle, Bennardo, uomini di spessore e di grande esperienza, sono per ora indisponibili. I numeri danno comunque ragione a Ragusa, che vanta la migliore difesa del campionato, con appena due gol subiti e nessuna sconfitta. Si tratta comunque di un derby che si giocherà nell'arco di due giornate. Il ritorno in casa new team mercoledì 25, per cui la gara è tutta aperta.